In Abruzzo, come nel resto dell'Italia e dell'Europa, non dè sta preoccupazione, ma in India è boom di contagi dovuti alla variante di Omicron Arturo, che ha lo stesso nome della stella più brillante dell'emisfero boreale. E lei la nuova osservata speciale segnalata in 21 paesi del mondo, che non è presente attualmente nell'Unione Europea, dove la campagna vaccinale sembra contenere la pandemia. E intanto in Abruzzo l'andamento dei contagi dovuti al Covid-19 nelle ultime settimane è rimasto stabile e l'ospedalizzazione in calo. Dopo che gran parte della popolazione si è immunizzata, gli hub vaccinali chiudono. Su questi argomenti ascoltiamo il responsabile della campagna vaccinale della ASL di Pescara, il dottor Rossano Di Luzio. In Europa resiste la barriera immunitaria creata dai vaccini? Un po' difficile dare una risposta certa. Sicuramente la vaccinazione che è stata fatta nei paesi europei è sicuramente migliore della vaccinazione che è stata fatta in altri paesi. L'indice di copertura dei nostri vaccini è molto più alto dell'indice di copertura usato nei vaccini, in particolare in quelli cinesi. Per cui possiamo dire che la copertura, la risposta immunitaria del nostro organismo è sicuramente più adatta a fronteggiare questa nuova variante. Poi fortunatamente in Abruzzo ancora non è presente questa variante, non mi risulta che sia presente neanche in Italia, dovremmo vedere poi allo stato delle cose come risponderemo. Però penso che possiamo essere abbastanza tranquilli. Fortunatamente il nostro sistema immunitario adesso risponde meglio, per cui riusciamo a convivere meglio. Le persone che devono essere fragili, che hanno pluripatologie, comunque dovranno sempre continuare a sottoporsi forse in futuro a ulteriori vaccinazioni. Intanto domani, primo aprile, chiuderà il centro vaccinale della stazione di Pescara Porta e le vaccinazioni anti-Covid saranno effettuate negli ambulatori del servizio vaccinazioni di via Renato Paolini al Civico 47 nella struttura del vecchio ospedale a Pescara, tutti i martedì e i venerdì dalle 15 alle 17. Questo per adesso sarà l'unico centro dove si potrà fare la vaccinazione anti-Covid nella provincia di Pescara. Naturalmente la ASA è pronta ad aprire altri uffici vaccinali dove attualmente facciamo vaccini per i bambini in altri giorni se dovesse esserci un aumento di richiesta.